Quello che dovevo dire per quanto riguarda la vicenda legata alle anticipazioni del libro del dottor De Bortoli, l'ho detto ieri pubblicamente, sulla vicenda sono già intervenuta in Parlamento il 18 dicembre del 2015 e ribadisco, confermo quanto detto in Parlamento rispetto alla vicenda, credo che la misura sia colma, sinceramente, quindi con molta tranquillità da qui in poi si occuperanno di questa questione i miei legali e quindi saranno loro, se necessario, a fornire altri aggiornamenti.